Allora ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono XTrader e oggi, dopo secoli, siamo tornati su MC Creator Dall'ultima volta che l'ho aperto sono cambiate tante cose su questo programma E oggi andremo a vedere tutte le novità e vedremo anche come si crea una mod Una volta aperto il programma si presenterà così E noi qua abbiamo quattro opzioni Creare un nuovo workspace, aprirne uno già preesistente Importarlo dai file, oppure aprire preferenze di MC Creator Quindi adesso noi come vedete non abbiamo workspace, quindi andiamo a crearne un nuovo Prima di tutto mod display name, che cos'è? È il nome della mod che vedremo all'interno del gioco Per esempio il nostro mod si chiamerà tutorial e quindi lo chiamiamo tutorial Mentre la mod id è il nome che avrà all'interno dei codici del gioco Cioè per esempio quando ci giviamo un oggetto della mod Ce lo giveremo facendo slash give il nome del vostro nickname di Minecraft E poi anziché minecraft due punti metteremo tutorial due punti Il mod id è una cosa che serve soprattutto dal punto di vista dei codici e dei comandi Quindi se non ve lo intendete vi consiglio di non modificarlo Poi possiamo scegliere la versione del minecraft su cui andrà il mod In questo caso c'è soltanto la 1.12.2 Quindi lascerò questa E infine la cartella in cui metteremo la mod Se vogliamo mettere la cartella per esempio in documenti Possiamo andare qua e sceglierla Io la lascerò qua Bene, adesso facciamo Create new workspace E ci creerà un nuovo spazio di lavoro Eccolo qua Adesso sta sistemando il workspace Ecco fatto, pronto Il workspace è pronto Adesso mettiamo a schermo intero La piegazione E possiamo iniziare a guardare l'interfaccia principale di MC Creator Come creare una mod Una mod si compone di diversi elementi E nel caso di minecraft questi elementi possono essere Le armature, biomi, blocchi Cibo E tante altre cose Per la precisione tutte queste qui Che andremo a vedere una per una nei prossimi tutorial Poi Qua possiamo modificare una mod selezionata Con questo tasto possiamo duplicare una delle mod selezionate Ovviamente tutte quante le mod che creeremo con questo tasto Le vediamo qua E nella volta che esporteremo le nostre mod Saranno tutte quante insieme Con questo tasto possiamo eliminare la mod selezionata Qua possiamo modificare i codici della mod selezionata Attenzione per modificare i codici Dovete conoscere la programmazione in java Quindi ve lo sconsiglio fortemente A meno che appunto non la conoscete E qua possiamo scegliere di bloccare o sbloccare degli elementi O meglio il codice di alcuni elementi della mod E qua infine possiamo modificare l'id degli elementi E i loro nomi registrati Qua poi abbiamo quattro opzioni diverse Che sono locazione Variabili globali E risorse oltre agli elementi della mod Le risorse sono tutte quante le texture I modelli 3D I file audio Le strutture E gli screenshot E qualsiasi altra cosa E per esempio le texture Possiamo creare una nuova texture Da un template Da uno scratch Possiamo creare la texture dell'armatura O una texture animata Vedremo a seconda dei cosi servirà Per i elementi della mod Vedremo come crearle Non preoccupatevi che nei tutorial successivi Comunque li vedremo tutti Possiamo importare la texture Possiamo modificarne una selezionata Tra quelle che apriamo qua Possiamo duplicarle O eliminarle I modelli 3D Possiamo importarli da vari programmi Possiamo modificare Il mapping della texture Oppure eliminare il modello I file audio Possiamo importarli O modificarli E le strutture Possiamo importare O una struttura O una schematic Oppure una struttura da minecraft E infine gli screenshot Possiamo esportarli O eliminarli Gli screenshot cosa sono? Sono gli screenshot che faremo Quando avvieremo Il gioco Da MC Creator Perché MC Creator Ha il vantaggio incredibile Di poter avviare Una versione di Forge Di Minecraft Con già la nostra mod installata In modo che potremo Verificare man mano Se tutti gli elementi della mod Funzionano a dovere Poi Le variabili globali Le vedremo in un tutorial apposito E sono per così dire Degli elementi a parte Da cui alcuni elementi Possono dipendere E che possono dipendere Da alcuni elementi Ma sono considerabili Come un elemento a parte E infine la locazione Semplicemente È la lingua della nostra mod E quindi adesso Andremo a scegliere Italiano E attenzione Questo qua Non vuol dire Che MC Creator Adesso sarà in italiano Vuol dire Che possiamo tradurre La mod in italiano E possiamo appunto Aggiungerla Rimuovere Esportare O importare Con questa barra Possiamo cercare Elementi nel workspace Che siano sia Elementi della mod Che texture Che qualsiasi altra cosa Qua abbiamo diverse opzioni O meglio Diversi shortcuts Di quello che abbiamo In questo In questo menu E anche in alto Comunque Se ci tenete Il cursor sopra Vedrete che Vi mostra Che cos'è Quindi adesso Non sto ad elencarle Poi qua Ci abbiamo altre opzioni Che sono solamente Dal punto di vista Grafico Del creator E non ci interessano Per l'effettivo funzionamento Del programma Qua con questo tasto Si andrà a vedere La console C'era Gradle Che decompilerà La mod E la costruirà Come si deve Per così dire E infine Questi tasti Qua possiamo sistemare I setting Del workspace Che sono per esempio Appunto Il nome della mod L'id La versione della mod Per dire Se la stiamo aggiornando Allora possiamo mettere Che ne so 1.1 Adesso c'è un 1.0 La descrizione Della mod Il nome dell'autore Metto xradar E un url Della mod Se ce l'abbiamo E eventualmente Possiamo anche caricare Un logo O un'immagine Della mod Poi qua Qua possiamo scegliere Se la mod Dipende da Un API esterno Le API sono una cosa Del modding avanzato Se cliccate su internet Comunque trovate Che cos'è Adesso Non sto a spiegarvelo Qua possiamo scegliere Se Amici creator Una volta che viene avviato Controlla Se ci sono 9 aggiornamenti Per forge Io consiglio di lasciarlo Impossato su si E possiamo scegliere Se questa mod È solo per i server E possiamo anche Mettere Un url Per aggiornare Il json Facciamo Save changes E basta Poi con questo tasso Possiamo scegliere Di ricompirare La mod È una cena Che vi consiglio Di fare ogni tanto Vi impiegherà Un po' di tempo Però comunque È utile Per ridurre Al minimo Gli errori Con questo tasso Possiamo avviare La versione di minecraft Attenzione però Comunque Una volta aperto Dovete inserire La vostra E-mail E la vostra password Del vostro account Minecraft E potete giocare Alla vostra mod Con questo tasso Invece possiamo Far partire Un server Con forge E la nostra mod Installata E infine Con questo tasso Possiamo esportare La mod E adesso mi dirà Mi chiederà di esportare E come esportare Tutte le impostazioni Ma sono cose Che vedremo Più avanti Perché Appunto Non abbiamo ancora Le metti della mod E quindi È inutile Che esportiamo Ci sono altre opzioni Vi lascio Esplorarle a voi Non sono indispensabili Per Non sono indispensabili Per utilizzare Questo programma E comunque Sono cose Principalmente Avanzate Oppure Che troviamo Già altrove Per esempio Qua In Resources Le troviamo Tutte queste impostazioni Le troviamo qua Infine Ultima cosa Se vedete qua Ci sono due freccette Possiamo allargare Questo spazio E come vedete Qua Sono tutorial Che vi renderizzeranno A internet Però sono tutorial In inglese Quindi Se volete Tutorial in italiano Iscrivetevi Al mio canale Che caricherò Tutorial Su ogni singolo elemento Ovviamente Potete anche chiedermi Di fare un tutorial Specifico Su una cosa E io lo farò Più che volentieri Il video è finito qui Commentate Iscrivetevi Lasciate possibilmente Un like E Xradar Burn Scrivetevi Tearing up the sky We're chasing the horizon Scrivetevi 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 Scrivetevi